Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha riunito a Palazzo Santa Lucia l'unità di crisi per l'emergenza idrica insediata lo scorso 20 giugno. Alla riunione operativa con il governatore e il vicepresidente Fulvio Bonavitacolo hanno partecipato tutti i rappresentanti degli enti di gestione dell'acqua in Campania. Nell'incontro si è proceduta ad una ricognizione delle criticità registrate nel quadro generale della riduzione degli approvvigionamenti. Al momento non si registrano gravi emergenze ma la situazione complessiva a livello locale, regionale ed interregionale va monitorata costantemente, affrontata e gestita in maniera operativa come si sta già facendo da oltre un mese. La priorità è continuare a realizzare anche in via preventiva una serie di interventi per garantire una quota di recupero idrico con cui si può far fronte all'attuale situazione climatica. Gran parte di questi interventi sono già in corso. Nella riunione, approntando a breve termine dove è già possibile le soluzioni necessarie, è stato affrontato il gravissimo e storico problema della dispersione idrica sulle reti in tutta la Campania. Già il mese scorso il presidente De Luca aveva chiesto lo stato di calamità naturale per la siccità che ha colpito il territorio regionale da dicembre 2016 a giugno 2017. La lunga siccità ha messo a dura prova tutte le province della Campania. I danni ammontano a circa 200 milioni. In tutta la regione esistono riserve d'acqua ma con problemi di utilizzazione che non possono essere più rimandati. Occorre ripartire da lì e realizzare altri impianti se necessari o magari più piccoli come una sorta di smart grid idriche. Lo dice Gennaro Masiello, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Coldiretti. Se in Italia si riesce a trattenere solo l'11 per cento dell'acqua piovana al sud e in Campania la situazione è ancora peggiore.